Il vicepresidente della Regione Veneto Marino Zorzato Il tema di questa puntata che è un po' tutta caratterizzata sulla ricerca e sugli stimoli positivi che si possono dare al nostro paese in un momento così buio e potremo parlare anche però della cultura di questa regione che ne fa tanta, ne produce tanta, ne porta per fortuna anche tanta da fuori. Quindi prima di far parlare il nostro ospite vorrei che vedessimo insieme questa intervista che abbiamo realizzato l'altro giorno al premio Nobel per la fisica Carlo Rubio all'interno di un convegno in onore di una grande scienziata padovana, Mila Baldo Ceoline che è stata la prima donna a ottenere una cattedra universitaria all'atereo di Padova in fisica ovviamente ed è stata una grande ricercatrice nel campo dei neutrini, si dice che sia una scienza che parla italiano quella dei neutrini. Pensate che dal 1930 gli scienziati di tutto il mondo stanno andando a caccia di questa piccolissima particella che ha la caratteristica di passare attraverso la materia per chilometri e chilometri, passa attraverso le costellazioni, le stelle, i pianeti, tutto senza interagire con la materia, senza subirne modificazioni. Gli scienziati sono team di ricerca mondiali che lavorano con questo obiettivo e Mila Baldo Ceoline è stata una delle persone che hanno dato un grande contributo a questa ricerca che ancora non si è conclusa. Con Carlo Rubio abbiamo parlato di innovazione perché sapete quel ruolo avuto nella ricerca sul nucleare, nella speranza di un nucleare pulito, sapete il ruolo che sta avendo anche in questo momento nella ricerca nelle nuove energie e ha un ruolo molto importante anche nel campo dei neutrini perché lui ha condotto anche la ricerca che alla fine ha smentito il famoso esperimento del CERN di Ginevra che diceva che andavano alla velocità più veloci della luce. Non è vero, non vanno più veloci della luce ma sono importanti lo stesso. Allora sentiamo questa intervista. Allora cominciamo dall'ultima cosa che ha detto. L'energia nucleare ha bisogno di ricerca altrimenti è spacciata. Ripeto, ho confrontato, sto confrontando l'enorme sviluppo tecnologico che è avvenuto dagli anni 60 fino ad oggi, che sono 50 anni, mezzo secolo, in tutti i campi della scienza. Guardo il computer, guardo la biologia, guardo le tecnologie avanzate, i computers, il transistor, il laser, tutte quelle cose. Ci sono stati degli sviluppi assolutamente straordinari nel campo della scienza che hanno modificato completamente la situazione. Un aereo che volava 50 anni fa era un piccolo oggetto a confronto a quelli aerei che volano oggi. Quando mio padre andava sull'aereo aveva una paura folle perché quella volta gli aerei erano pericolosi. E come si è risolto il problema? Trasforando l'aereo da un oggetto pericoloso all'oggetto che è più sicuro di questo mondo perché oggi il modo migliore per viaggiare è andare sull'aereo. È più facile avere un incidente nel tassi dall'aeroporto fino a casa di quello che c'è per andare da qui fino a San Francisco. In questo tipo di situazione la stessa discorso deve applicarsi anche al nucleare. Purtroppo il nucleare negli ultimi 50-60 anni è rimasto fisso, è rimasto stabile, non è cambiato nulla. Stiamo ancora pensando alle stesse cose che aveva sviluppato Rokoski a tempi dello sviluppo dei reattori nucleari per fare i sottomarini. Rikover era un generale che aveva costruito i sottomarini nucleari perché i sottomarini nucleari, un singolo sottomarino nucleare, è capace di portare più potenza esplosiva di tutta la seconda guerra mondiale. Per questo hanno sviluppato queste cose, l'hanno mandato sott'acqua all'interno del fondo del polo nord e chi lo va a pescare? Quindi era un'arma assolutamente terrificante, però era un'arma e noi non possiamo vivere soltanto delle armi, dobbiamo pensare anche al miglioramento. Ci sono tante cose che si possono fare, l'utilizzazione del torio, lo sviluppo di acceleratori associati al nucleare, la possibilità di fare della fusione, della fissione e cose di questo genere. C'è tutto un enorme sviluppo tecnologico e scientifico che è rimasto fermo. E noi stiamo ancora qui a pensare, a riflettere, abbiamo un paese come il Giappone che ha 50 areatori nucleari e non si rende conto che a un certo punto se viene un tsunami, se viene una ondata di mare, una cosa o l'altra, si deve distruggere completamente il sistema e uccidere completamente il programma del nucleare. Il nucleare è stato trattato in maniera troppo burocratica. È la burocrazia dei nuclearisti che ci hanno deciso. Anche le energie rinnovabili hanno lo stesso problema? Io ho detto prima che le energie rinnovabili sono importanti, ma sono ancora premature. Che oggi le energie rinnovabili da sole hanno delle enormi difficoltà. È certo che in certi posti il sole è interessante, è certo chiaro che il vento in certi posti è importante, ma è anche vero che oggi la nostra domanda è basata sul fatto che noi vogliamo l'energia quando ne abbiamo bisogno, non quanto è disponibile. È per questo che oggi nessuno viaggia con il vento sulle navi, perché oggi Ulisse ci ha impiegato 25 anni per andare a casa e se noi ragioniamo in questi termini oggi non sarebbe mai riuscito a fare qualunque cosa. Quindi il problema è che il vento ha un elemento aleatorio, il solare ha un elemento aleatorio che ci impedisce di utilizzare l'energia con quelle regole che sono regole fondamentali della tecnologia di oggi. Quindi dobbiamo risolvere il problema. L'unico motivo per cui per esempio l'idroelettrico funziona non è perché c'è l'acqua, ma perché c'è la diga. La diga permette di accumulare l'acqua e la mette disponibile quando la vogliamo. Non c'è un equivalente nel vento. Se non c'è vento l'energia non si può utilizzare. La stessa cosa è vera per il sole. Anche il sole facciamo il fotovoltaico, se di notte non abbiamo l'elettricità e non possiamo... Vogliamo tutte le volte smettere di andare a dormire alle sei di sera. Non è possibile. E quindi è chiaro e evidente che questi sviluppi tecnologici hanno bisogno di che cosa? Hanno bisogno di un'enorme quantità di sviluppo tecnologico. Come dico, tanto nucleare di oggi che i rinnovabili di oggi non sono quelli di domani. E noi dobbiamo sviluppare, e lo faremo soltanto grazie all'innovazione, all'inventività, che è l'inventività del signor Steve Jobs, che in un garage riesce a scoprire il personal computer. Questo tipo di innovazione lì ne abbiamo terribilmente bisogno, tanto per le energie rinnovabili come per i nucleari. E' soltanto in questo modo che riusciremo a risolvere questi problemi. Perché invece è così importante studiare questi neutrini, che ai più sono conosciuti soltanto per le polemiche giornalistiche? Ma prima di tutto direi che il neutrino non è uno scoop. E quindi il neutrino è una cosa molto delicata, è molto importante. Anche la meccanica quantistica era una cosa assurda. E poi è venuto fuori che tutto quello che abbiamo oggi viene dalla meccanica quantistica. Non è detto che i neutrini debbano essere necessariamente quelle cose inutili. I neutrini fanno parte di quello che noi portiamo avanti spinti dalla curiosità. Io credo che la scienza deve essere fondamentalmente curiosity driven. La scienza non deve pensare se c'è un uso e consumo, lo faccio, se no non lo faccio. La scienza deve essere fatta in maniera tale che tutto quello che è nuovo, innovativo, interessante, deve essere studiato e avanzato. Non perché ha un fine pratico, ma perché soddisfa il nostro più profondo desiderio di curiosità. La curiosità è quello che ha messo l'uomo sulla luna. Siamo andati per curiosità, non mi è cambiato per altri motivi. E l'uomo è passato da dove era fino oggi grazie a questo sentimento del fatto che bisogna conoscere le cose e capire. E conoscere e capire è una cosa che non può avere limiti. A mio parere non esiste la scienza applicata. Einstein diceva che non esiste la scienza applicata. Einstein diceva che esiste solo l'applicazione della scienza. Quando tu fai della scienza e domani scoprirai che se la scienza può essere utile o non può essere utile. Ma non lo devi dire prima, lo devi dire solo dopo. Oggi l'obiettivo è Marte. Marte sarebbe molto interessante, però vuole dire che sì, certo, ci sono cose molto importanti di questo tipo di cose. Ma in qualunque campo non è vero che bisogna andare su Marte per essere soddisfatti contenti. Si può anche fare la cosa con cose molto più semplici. Sono a mio parere le cose semplici quelle cose che permettono oggi di fare il più grande sviluppo. Ci sono moltissime cose che soprattutto i giovani potrebbero fare se avessero quello che io chiamo le unthinkable idea, le idee impensabili. E bisogna anche dare un grande valore a quella che voi chiamate l'idea impensabile. Quello a cui non ci pensa nessuno ma che tutto sommato grazie perché non ci pensa. Quando abbiamo scoperto, per esempio, prendiamo l'esempio di Leonardo da Vinci che ha costruito l'aereo. Oggi vediamo gli aerei che vanno a spasso dappertutto, ma Leonardo da Vinci è quello che ha capito che si poteva volare. Ma guardate la differenza tra l'idea unthinkable idea di Leonardo da Vinci che ha capito che puoi volare con un sistema, ha messo gli uomini che facevano le cose, e un aereo che funziona oggi. Sono a causa e l'effetto, senza Leonardo da Vinci che sviluppava l'aereo iniziale, non ci sarebbe l'aereo di oggi. E si applica a tantissimi altri campi. Quindi l'idea deve capire che a un certo punto pensare in maniera inconvenzionale, pensare in maniera innovativa, pensare anche alle cose impossibili, è una delle cose che soprattutto i giovani dovrebbero considerare come importante. Perché tutto sommato è quello che ci permette di cambiare. Perché senza cambiamento, senza modifica, senza passaggio da oggi a domani, non ci arriveranno mai, con 7 miliardi di persone. Se noi non cominciamo a innovare, cosa facciamo? Una via di uscita anche per l'Italia. Pensi solo al numero. Cosa sono 7 miliardi di persone? Se lei prende una persona e mette una persona dopo l'altra, a distanza di 20 metri, da qui e dove c'è quel signor lì, una persona di 20 metri che parla con la persona successiva, la distanza coperta da 7 miliardi di persone è dalla Terra al Sole. 140 milioni di chilometri sono a distanza dalla Terra al Sole. 7 miliardi di persone vuol dire una persona di 20 metri. Quindi oggi abbiamo creato un sistema in cui con una persona di 20 metri e arriviamo dalla Terra al Sole. È una cosa spaventosa, si ci pensa. Ha sentito parlare di Ilaria Capua, di questa ricercatrice padovana che studia Ilaria Capua? Non lo so. Stanno cercando di salvare il suo posto di lavoro qui a Padova, perché è al centro di una polemica che lei in questo momento non conosce. Dovrebbe venire più spesso. Ma mi volete? Siete sicuri? È proprio sicuro che non la cerca nessuno qui in Italia. Vuoi che mi volete? È vero, io penso che tutta Italia vorrebbe Carlo Rubia di più in Italia. Magari non ci sono le condizioni giuste. E Marino Zorzato, abbiamo detto, vicepresidente della Regione del Veneto, su cui pesano tante responsabilità in questo momento in cui la Regione intera sta soffrendo di una fase economica che forse non aveva mai visto dal dopoguerra ad oggi. Ha sentito le parole del premio Nobel Carlo Rubia. Come facciamo a far volare questo Veneto? Intanto devo dire che quando un Nobel come lui, italiano, ti dà questo senso di ottimismo, di speranza, quando uno come lui guarda al futuro, beh, insomma, rispetto al momento difficile che viviamo, ci aiuta. Da un senso di ottimismo, di speranza, senz'altro. È vero poi che abbiamo due livelli. C'è il livello delle cose concrete, del giorno per giorno, dell'attività in qualche modo a meglio termine o a breve termine e c'è chi invece, come lui, chi pensa all'innovazione nel futuro deve ragionare su progetti che sono ambiziosi. Diceva lui giustamente, è bellissimo l'esempio, senza in qualche modo una idea impossibile, quella di Leonardo, non avremmo il volo. Il Veneto ci sta provando ad avere delle idee impossibili, però mamma mia che fatica. Per esempio penso all'idrogeno nella zona di Marghera, che potrebbe essere una frontiera nuova. Penso a quello che dovrebbe succedere, che ne so, a Portotolle con la nuova centrale, che dovrebbe essere uno degli esperimenti più avanzati nel settore del riutilizzo dell'anidride carbonica, e che ne so, tante altre cose simili che potrebbe fare questa regione, ma invece non si vedono progredire. Come andiamo? No, quello che conta, voglio ancora rifarmi all'intervista, perché c'è una concretezza in quello che dice il professor Rubbia, che va al di là degli slogan. e cito quello che lui dice e in qualche modo un qualcosa che mi è capitato di vedere. Io ho visto dei campi sterminati di pale eoliche e di queste pale eoliche, che qualcuno dice che rovinano il paesaggio o no, ho visto in qualche modo una buona parte di queste ferme. E allora la domanda è, quando fai innovazione, nuove tecnologie, ci vuole anche un bilancio economico. Perché per fare bella figura, e fare investimenti a perdere, o qualcosa che rovina il paesaggio, e allora io dico, dobbiamo... Non l'ho rivolta questa domanda a Carlo Rubbia, ma posso garantire che sarebbe d'accordo completamente, nel senso che lui ha studiato per peso l'unico esempio mondiale di accumulazione di energia in un unico punto del pianeta, proprio per non rovinare effettivamente il paesaggio. C'è un tema di paesaggio, e anche per renderlo sostenibile economicamente. E anche per renderlo sostenibile economicamente. Quindi credo che conti a noi, in un momento come questo, è finita il periodo in cui tutto si poteva provare, perché comunque Pantalon pagava. Allora, Pantalon non c'è più, i debiti sono tanti, il sistema ha bisogno di tenuta sociale, e quindi ci vuole responsabilità e concretezza. Devo dire che governare in un momento in cui questo è diventato in qualche modo la linea di demarcazione tra il ben fare e il cattivo fare, è una sfida difficile, sulla quale giorno per giorno, mattina per mattina, uno che ha responsabilità di governo deve preoccuparsi di fare i piccoli lavori, i grandi lavori, e poi certamente pensare che è il futuro. Ecco, tra i politici lei ha anche una competenza che è, oltre a avere l'urbanistica, che diciamo magari le dà qualche guaio, ne ha anche una molto carina, che è la cultura, di cui abbiamo sempre un gran bisogno, perché anche io credo che anche attraverso la cultura si possa superare un momento così difficile. Anche attraverso la cultura si può guardare all'innovazione e a questi sogni, di cui parlava anche il premio nobile, questa capacità di, il premio Nobel, nobile del punto di vista dell'attività che produce per il mondo. Anche la cultura può dare moltissimo in questo senso. Voi questa settimana siete molto impegnati anche sul fronte europeo, perché avete un salone europeo della cultura, che è un altro passettino in avanti verso le candidature che stiamo portando avanti della nostra regione ad essere capitani europei della cultura. Cosa state facendo? Ed è vero che questo può aiutarci anche un po' a uscire dalla crisi? Cultura, innovazione, territorio, argomenti che fino a qualche tempo fa non si mettevano assieme, non si sposavano. Però credo che a chi ci ascolta due informazioni, così cominciamo. Ci sono due aziende in Veneto che stanno dando ottimi risultati. L'export, lo chiamo azienda, cioè tutte quelle imprese che lavorano con il mondo, e il turismo. Abbiamo 63 e più milioni di presenze turistiche in Veneto, in crescita. Più di 16, 15-16 milioni di turisti fisici che vengono qua. Con il turista che, in qualche modo nuovo, che va nelle città d'arte, nelle vide venete, nei paesaggi particolari, che spende pro capite il doppio del turista tradizionale. 60 euro circa a persona al giorno si spende nelle mette storiche, le spiagge nostre. 120 euro spende un turista invece, diciamo, di città d'arte. E questa è l'industria, non è più uno scherzo. Certo. Questa è l'industria, assieme all'export, che fa la differenza in Veneto. A chi arriva, ovviamente, bisogna anche proporre. Perché rega questa industria. c'è un problema infrastrutturale, i buoni alberghi, la buona cucina, ma senza la parola cultura come contenitore. direi che se ce l'abbiamo noi, il problema dei buoni alberghi, della buona cucina, addio il resto del mondo si deve ammazzare, voglio dire, perché abbiamo anche avanotermi che abbiamo appena visto che licenze a 300 persone, quindi volendo possiamo rilanciare un centinaio di alberghi. Tu lo rilanci usando la parola cultura, che diventa in qualche modo la cornice su cui costruisci il Veneto del futuro. Se fai questo, queste nostre due industrie, l'una è mai in Italy, il concetto di export, sta tutto quanto nel nostro messaggio. E il turismo è l'altro elemento. Insieme si collegano queste due parole con il tema della cultura e del territorio del paesaggio. È un insieme. Ecco perché noi stiamo cambiando approccio, cioè la cultura non è più un problema da fornire a pochi interessati per se stessi. È in qualche modo un modello di sviluppo del Veneto che offriamo ai Veneti prima di tutti, ma soprattutto al mondo, perché venga in qualche modo in questa bellissima ragione a spendere e a farci superare questo momento. Ho l'impressione che i dati ci dicono che fra qualche anno queste due eccellenze saranno le due industrie del Veneto. Cioè chi saprà? Poi c'è l'autoconsumo interno, le aziende per noi, non ci mancherebbe. Però chi saprà guardare il mondo a essere interessante sul piano dell'industria? Quello che gli ho detto prima, l'idrogeno, la centrale, moriranno o saranno portati avanti? No, Rubi è padovano, cioè è italiano, è venuto qua a festeggiare una padovana, lui non conosce la da capo perché è una dimensione mondiale. Perché non è mai in Italia. Il Veneto è una fucina di talenti e poi lui citava chi in uno scantinato, Jobs, ha fatto una grande invenzione. Lui sa probabilmente quanti scantinati ci sono in Veneto in cui qualcuno si ingegna tra la mattina e la sera a creare... Mi stesso, mi sa che si è messo in uno scantinato all'inizio. E quindi io credo che è proprio la nostra cultura quella dell'ingegno. Certamente c'è altro degli stimoli in più e noi lavoriamo anche su quelli. Sì, io credo che appunto anche la grande tecnologia alla fine abbia come ricaduta la crescita dell'intero paese. Come diceva giustamente Rubi nell'intervista, anche la meccanica quantistica, che se non si sapeva bene che cosa fosse, poi alla fine aveva dato delle ricadute importanti su quella che è la nostra vita quotidiana e io credo che questa regione abbia talmente tanto da offrire anche dal punto di vista della cultura, che anche la ricerca scientifica è cultura di per se stessa, che forse si fa fatica a far percepire tale mole di quantità di proposte che ci sono. Questo è un problema. Il Veneto è bellissimo, è denso di offerta e quando il mondo ti guarda ti guarda in qualche modo per le eccellenze. Quindi noi abbiamo un problema che avendo troppo delle volte rischiamo di abbassare la media, stiamo lavorando in senso inverso. Quando si parlava prima di Salone Europeo della Cultura, quest'anno noi presentiamo a Venezia un lavoro diverso dal solito, perché si chiama Salone Europeo della Cultura, ma ha due su quattro sezioni, una rivolta all'innovazione e quindi una cultura di un approccio diverso. L'altro è rivolto al tema dell'informatica, diciamo, al modo con cui il mondo della cultura guarda queste nuove tecnologie. E forse perché le vengono utilizzate. L'altra parte, cosa è la cultura del passato? Era tutta innovazione, cioè tutto ciò, tutto quello che abbiamo oggi noi. Certamente la Cappella Sistina prima che nascesse non l'aveva vista nessuno, deve aver fatto notizie anche all'epoca. In quel tempo, in quel tempo, quelle opere che oggi per noi sono ancora grandiose, erano innovazione, era tutta novità. Le opere di Michelangelo erano novità. Le strade dei Romani cos'erano? Una novità per quel tempo. E potrei andare avanti. La Villa Veneta cos'era? Era un'azienda, era una fabbrica fatta in centro a territori veneti in cui si cominciava a lavorare, a trasformare il prodotto agricolo in produzione. Adesso vediamo la bella villa. faccio una considerazione, una curiosità. Quando uno pensa alle ville del Palladio, alle meravigliose ville vicentine del Palladio anche in città, oggi le guarda con l'occhio dell'ammirato che vede una bellezza architetonica. Erano, esattamente, per gli anni in cui furono fatte, delle mostre permanenti dei grandi vicentini tessitori i quali invitavano i loro omologhi diciamo delle fiambre a venire a Vicenza a scambiare i loro odi. Erano i saloni dove si mostravano le copie. Esattamente dei saloni di moda. Abbiamo oggi quelle ville ma erano aziende e imprese quindi il tema della cultura ed economia che è il titolo che noi abbiamo dato alla sfida che Venezia sia il Veneto capitale della cultura nel 2019 è cultura ed economia perché la parola cultura da sola fa poco strada. Ma insomma sono sempre andate di pari passo nella storia e così è giusto che forse procedano. Io devo stopparmi per due minuti per una piccola pausa pubblicitaria ma poi ritorniamo insieme perché dobbiamo parlare anche di altri argomenti e anche del futuro di questo Veneto che dovrà vivere anche questa divisione delle province alle metropolitane insomma ce n'è di carne al fuoco a tra poco. Eccoci qui ancora insieme con Marino Zorzato che è vicepresidente della regione Veneto con delega anche al settore della cultura e proprio utilizzando il grimaldello della cultura questo Veneto sta cercando un pochino di cambiare pelle di cambiare faccia di darsi una nuova proposta anche agli occhi del mondo è come abbiamo detto la leva la famosa leva verso la quale si può sollevare il mondo ma bisogna saperla usare con le dovute maniere e quindi bisogna che anche i Veneti prendano un po' consapevolezza di quello che sta cambiando che la smettano un po' di lamentarsi che comincino come abbiamo detto prima anche con l'ospite precedente a rimboccarsi le maniche e a cominciare ad affrontare questa sfida internazionale beh io resto un po' più ottimista nel senso che i Veneti insomma non si sono mai metti su le maniche hanno sempre lavorato la cultura veneta è del lavoro l'abbiamo sempre lavorato con questo sono d'accordo e abbiamo ancora un mondo di piccole imprese però stiamo soffrendo un po' c'è una sofferenza internazionale c'è una sofferenza europea dopodiché anche noi soffriamo però tutti gli indicatori dicono che se il Veneto fosse da solo se fosse il nord-est saremmo tra le prime cinque regioni d'Europa quindi certamente anche noi abbiamo problemi occupazione non nego niente però i dati dicono che restiamo una regione la prima d'Italia in valore percentuale per l'export la seconda in valore assoluto la Lombardia ha 10 milioni di abitanti la prima lo dicevo prima regione turistica d'Italia quindi abbiamo eccellenze indubbiamente è un sistema che si sta riassestando sulla base di una crisi internazionale che c'è italiana che c'è cioè se cadono in consumi e paghiamo più tasse non è che i veneti non lo sentano da questo però siccome troppi hanno tifato per anni sulla fine del modello nostro e hanno scritto per anni che finiva e l'anno dopo che siamo troppo piccoli ci sono sempre state critiche al modello del nord-est io credo che i veneti sanno adattarsi cambiare sanno anche arrabbiarsi sanno la politica il sistema deve aiutarli deve in qualche modo seguirli ma guarda perché adesso anche la regione deve fare i conti con dei tagli non da poco ci sono mille difficoltà però se io guardo il mio Veneto con le critiche o le crisi che può avere e poi prendo l'auto o prendo un aereo e vado da qualche altra parte d'Italia la sanità nostra è tra le migliori d'Europa c'è da mettere le mani su qualcosa abbiamo qualche problema sulla lista della terra senza negare i problemi non è che Report viene qua e fa i servizi in cui trova sui corridoi 100 persone nelle barelle che stanno aspettando non funziona così ci può sempre essere qualche caso la notizia è venuta a Verona e ha trovato qualcuno che non cliccava il cartellino allora ci può sempre essere il caso che non funziona è una buona sanità infrastrutture siamo l'unica regione che ha fatto opere ma che passante da noi si è fatto dalle altre parti le hanno finanziate le opere pubbliche siamo l'unica regione che ha fatto innovazione vera abbiamo il riasificatore da noi cioè è l'unica regione e poi per costruirlo siccome non si poteva con i verdi farlo in Italia l'abbiamo costruito in Spagna e portato qua attraverso il mare questa enorme dovrebbe vederlo e quindi stiamo ragionando di futuro stiamo ragionando lo dicevi tu di porto tolle di idrogeno stiamo ragionando e vogliamo il porto a Venezia vogliamo un porto che consenta fatto sul mare di far sì che Venezia torni a essere il centro mediterraneo ma addirittura che superi il nord sul trasporto merci e quando tu fai questo porti economia allora non siamo mai fermi certamente si potrebbe fare di più sì come sempre c'è sempre bicchiere come lo guardi io dico che il Veneto è una bella regione e stiamo lavorando non per dire che il modello nord-est non ha fatto l'economia del Veneto ma dopo 30 anni di sviluppo in cui la parola sviluppo veniva prima del paesaggio prima del Veneto bello prima adesso visto che il sviluppo si è un po' fermato è doveroso guardare a fare un Veneto più bello più vivibile ma per i Veneti ma non solo per noi anche per quelli che vanno a spendere soldi in Veneto e fare in qualche modo benestanti noi Veneti ecco per tornare alla battuta che facevo all'inizio era proprio per collegarmi al fatto che arriveranno persone da tanti paesi del mondo già lo fanno magari Venezia su questo è già più avanti Jesolo magari sarà già più avanti alcune zone che sono abituate ad avere turismo straniero sono già più avanti il resto della regione un po' si deve attrezzare a questo tipo di ospitalità intendevo questo beh ma è quello che dobbiamo migliorare perché 6 miliardi che può movimentare 5-6 miliardi di euro all'anno il turismo in Veneto valgono bene qualche lezione di russo valgono perché ormai il mondo una volta ormai un dato il 60% dei turisti del mondo si muovono oggi come metodo di nuovi cioè internet come funziona si parlano e domandano chi è già stato qua come ti sei trovato allora il problema non è più viene il turista so che non torna passatemi la parola lo spolvero e va bene e no lo devo curare lo devo curare perché è il promotore del nostro prodotto anche un singolo turista può diventare un canale con i sistemi nuovi di informazione il vecchio catalogo che ancora qualcuno come me spoglia perché magari sono rimasto un po' indietro sulle tecnologie è un qualcosa che sta assolvendo una minima parte del prodotto mondiale ci sono tante chance a disposizione della nord-est sicuramente non c'è solo il lato oscuro di questa crisi ma come dicono la saggezza cinese dietro ogni crisi c'è anche qualche opportunità e finalmente stiamo cominciando a vedere anche qualche esempio concreto di questa filosofia orientale quello che arriva però adesso per spostarmi un po' anche perché il tempo purtroppo qua è tirano abbiamo solo qualche battuta da fare per parlare un po' anche dei temi della politica almeno due cose vorrei affrontare con lei primo perché so che su questo lei è molto attiva in questo momento questo ragionamento sulla divisione del Veneto in province come dovrà avvenire ormai sappiamo che è stato stabilito almeno per il momento l'area metropolitana di Venezia Treviso con Padova Vicenza da sola Verona con Rovigo Belluno da sola questa è un po' la fisionomia che dovremmo assumere però sappiamo che le forze in campo sono tante si vuole o farne un'intera area metropolitana o farne due o non si capisce bene lei come la vede e che conseguenze ci sono perché si rischia di pensare che questa è una discussione un po' così astratta che non ha nessun tipo di conseguenza poi nella vita delle persone il tempo tiranno mi obbliga a qualche battuta ma una premessa importante probabilmente un anno fa un sondaggio con chiunque avrebbe detto che i veneti e gli italiani le province non le volevano più il tema non era se servivano o no il tema non era se erano utili o no ma si era deciso che non servivano più io non voglio entrare in questo argomento perché il governo ha deciso di fare una mediazione di 150 cioè né carne né pesce ma ma la filosofia che sottendeva questo ragionamento degli italiani qual era? abbattiamo i costi della politica abbattiamo i costi del sistema quindi non discuto se è giusto o sbagliato ma noi pensavamo chi diceva via le province che un domani può essere via i comuni piccoli che dopo domani può essere via la regione cioè io non sto non voglio era dobbiamo ridurre i costi di questo elefante che è lo Stato poi farò un passaggio su quanto elefante è lo Stato e quanto meno sono i territori ma lo sappiamo l'abbiamo detto tante volte la domanda è perché non mi appassiona la parola città metropolitana e perché quando sento che Palo potrebbe andare sulla città metropolitana mi vengono si dice i penidretti i penidretti ma perché? perché se eravamo contrari alla provincia perché era un costo la città metropolitana se ci sarà mai è un costo maggiore perché è una provincia rafforzata cioè a dire non volevamo qualcosa facciamo un carrozzone più pesante cioè allora la trovo una cosa è un cortocircuito perché se abbiamo già la regione dopo discutiamo non va bene ma allora cambia un livello va semplificato allora mi va bene la provincia snella di cui stiamo parlando perché presumo che sia una provincia che in qualche modo secondo il dettato dei cittadini costa meno certo non mi va bene un carrozzone metropolitano perché la logica per chi lo difende è diamo ulteriori competenze siccome le competenze sono personale personale costi e aggiungo due considerazioni velocissime la prima se io e faccio un esempio se devo andare domani mattina in banca ad aprire un conto corrente prima chiedo le condizioni che mi fa la banca il tasso che mi fa e poi apro il conto corrente non è che apro il conto corrente e il giorno dopo dico ah no ma qua c'è l'8% sul coperto prima facciamo la città metropolitana poi ci domandiamo cosa fa e quanto costa no Padova ha 430 dipendenti di provincia Treviso ne ha 600 Venezia ne ha quasi 800 questi vanno tutti assorbiti comuni e regione ovviamente quando li metti assieme sono 2000 da 2000 li dai più competenti diventano 3000 no io sono contrario poi giusto perché lo Stato lo sappia e i cittadini lo sappiano se Padova ha 400 dipendenti e Treviso ne ha 600 dipendenti lo Stato lo Stato tra Padova e Treviso ne ha 8000 e non parlo delle scuole parlo di questura prefettura Ips Ina allora ci siamo? voglio che mi risponda in 30 secondi queste primarie le facciamo non le facciamo serviranno cosa dirà il Veneto? le facciamo servono come atto di partecipazione sì sono interne per cui di fatto non sono di coalizione ma credo che ogni volta che tu metti in condizione qualcuno di dire come la pensa e di esprimere un parere così come le preferenze per le votazioni sia un atto di civiltà e di democrazia quindi va bene che vengono fatte allora domenica si votano quelle del PD siamo in attesa di sapere la data di quelle del PDL comunque è tempo anche di innovazione nella politica un pochino per fortuna speriamo che il taglio dei costi prima o poi arrivi grazie a Marino Zorzato per la disponibilità e buon lavoro e grazie a voi per essere stati con noi questa mattina buona giornata arrivederci grazie a tutti